Ci siamo tutti? Una grandissima impresa, una grandissima gioia anche giocare dal primo minuto. Sì, partiamo dall'impresa che penso sia la cosa più importante. Bello perché venivamo da un periodo un po' più opaco rispetto all'inizio del campionato e diciamo che questa vittoria qua ci fa stare un attimino più sereni e non ci fa perdere le sicurezze che avevamo raggiunto nel primo mese e mezzo. Se non sbaglio è la prima titolare in Serie A per te, non è una brutta partita? Sì, è la prima e mi fa piacere che sia andata in questo modo. Ha girato tutto bene anche a centrocampo di equilibrio con i compagni e ha girato tutta la squadra in generale? Sì, abbiamo fatto una buona partita. Siamo una squadra a cui piace giocare insieme, normale che il Parma possa avere dei momenti di difficoltà come ha avuto nel secondo tempo. Però tutti i ragazzi che giocano sanno quello che devono fare e penso che lo facciano sempre bene. Dove si va con 17 punti dopo 12 giorni? Eh, si va verso una salvezza un po' più tranquilla. Non penso debba cambiare l'obiettivo e deve solamente darci un po' più di sicurezza ai nostri mezzi e un po' più di serenità per affrontare il resto del campionato. Senti, hai saputo di giocare in settimana oppure appena prima della partita? Perché eri prontissimo. No, dico la verità, l'ho saputo stamattina. Cioè, stamattina prima della partita perché il mister usa fare comunque sempre in settimana alcuni cambi, alcuni esperimenti per vedere un attimino quali siano secondo lui le situazioni migliori. Ho giocato, mi ha fatto piacere ed è stato emozionante. Abbiamo visto un Parma compatto, corto, con le due linee molto vicine, pronta ad attaccare in contrapiede. Praticamente avete sofferto pochissimo. Sì, è normale venire a Torino e lasciare comunque il possesso palla un po' di più a loro rispetto a noi. Però si sposa perfettamente con le nostre caratteristiche. Noi non dobbiamo scordarci che abbiamo dei giocatori che a campo aperto fanno male, che hanno qualità quando gli isoliamo nell'uno contro uno. Dobbiamo essere un po' più bravi nella gestione, però oggi un po' di più nel primo tempo, un po' meno nel secondo, l'abbiamo fatto abbastanza bene. Senti, hai ribadito con forza la voce che in questo Parma c'è anche scossa bene? Sì, diciamo non è stato un bel periodo, più che altro è stato lungo e quindi il mio obiettivo era un attimino far capire che il Parma si può sfidare di me e spero ovviamente che ci siano delle altre occasioni, però iniziare così è stato bello. Anche perché è ben evento di search and count, è possibile? Io non sapevo niente, me l'hai detto tu adesso. È bello pensare a questa vittoria pensando anche dove eravamo due anni fa. Sì, bellissimo e ancora più bello per chi ha vissuto addirittura la ripartenza totale. Per me è bellissimo perché quando ero arrivato avevo detto che ero arrivato a Parma e fa qualcosa di speciale, il fatto che si sia realizzato in così breve tempo è stato magnifico. Quindi la giornata di oggi è un po' il coronamento di questi due anni. Qual è il segreto di questo gruppo? Appunto è partito dalla Lega, però è arrivato a spugnare campi come Torino, Milano, Genova. Ma non penso ci siano dei segreti, penso ci sia solamente della consapevolezza che aumenta partita dopo partita, ti senti un po' più a tuaggio in un campionato che hai affrontato poco e per fortuna tutti quanti ci stiamo ritagliando uno spazietto.